Facciamo chiarezza sulla situazione di FTX e le notizie che sono iniziate a circolare in questi giorni. Video molto molto importante ragazzi, c'è da fare tantissima attenzione. Ovviamente non voglio creare food, non voglio creare paura, ma c'è da prendere le giuste precauzioni e vi dirò in questo video quello che ho deciso di fare io. Ma prima voglio chiarirvi qual è la situazione riguardo l'exchange FTX e cosa sta succedendo. Ciao amico Cryptomene e benvenuto in questo nuovo video. Come sempre prima di iniziare lascia subito un like a questo video per supportarmi e far arrivare a questo video quante più persone possibili e soprattutto iscriviti al canale e seguimi su tutti i social se ancora non l'hai fatto. La situazione inizia a farsi pericolosa. Il tutto è iniziato quando in giro è iniziato a circolare il balance sheet di Almeda Research che mostra che 14,6 miliardi di asset al 30 giugno ovviamente sono in grande maggioranza fatti di FTT token ovvero il token emesso dall'exchange FTX. sempre di Sam Bankman e ovviamente non ci sarebbe nulla di male considerando che però in un fondo che ha 14 miliardi la maggior parte sono fatti di token FTT e quindi non poggiano sostanzialmente diciamo la stragrande maggioranza delle risorse di quel fondo non poggiano su una risorsa indipendente come viene detto nell'articolo come valuta fiat o alta criptovaluta ma su un token che è appunto relativo ad un exchange di cui Sam Bankman appunto è stato il creatore. E i dati finanziari rendono concreto ciò che tutti quanti comunque sospettano ovvero al medio è grande al 30 giugno il patrimonio della società montava 14,6 miliardi e la sua unica risorsa più grande ovvero 3,66 miliardi di FTT token sono sbloccati e sono la terza voce più grande ovviamente sul balance sheet. Una pila di 2,16 miliardi di garanzie di token FTT quindi ovviamente utilizzati come garanzie e da qui inizia diciamo tutto il pericolo. Ci sono più token FTX tra i suoi 8 miliardi di passività 292 milioni di FTT bloccati e le passività sono denominate da 7,4 miliardi di prestiti. Adesso con 8 miliardi di passività ovviamente e con 292 milioni di FTT bloccati le passività sono 7,4 miliardi di prestiti. Quindi considerando che la grande maggioranza dei fondi in almeno 6 sono fatti del token FTT potrebbe nascere il problema appunto di insolvezza. Da lì inizia poi tutta una serie di cose ovvero la prima cosa che possiamo andare a vedere che è stata che è iniziata è il tweet da parte di CZ che è stato quello diciamo che ha fatto tra virgolette scattare ancora di più il panico perché ha annunciato che dato che diciamo iniziato a circolare questa voce sostanzialmente la parte di Binance di FTX detenuti che hanno appunto ricevuto di 2,1 miliardi di dollari equivalenti in cash fatti da BSD e da FTT ha deciso appunto Binance di CZ sostanzialmente di iniziare a liquidarli. Vogliono liquidarli tutti ma ovviamente ha spiegato che ci metteranno un po' di tempo date comunque la poca liquidità in questo momento del mercato e comunque ha proprio indicato che data diciamo la notizia che è iniziata a circolare è stata presa questa decisione notizia che ovviamente è stata poi smentita diciamo dal CEO di Almeda che dice che hanno tanti altri diciamo soldi tra virgolette oltre a quel balance sheet che quel balance sheet non rispecchia la verità e che quindi ovviamente ha cercato diciamo di smorzare un po' la situazione e considerando che appunto Binance ha deciso di liquidare tantissimi soldi tra l'altro ha liquidato già circa 500 milioni ha deciso di liquidare tutti gli FTX questo potrebbe provocare un grandissimo dump per FTT e di conseguenza ovviamente provocare anche un rischio sistemico in Almeda Reserve cioè se ha tutta quella passività e la maggior parte dei fondi in token FTT come abbiamo potuto leggere dall'articolo questo potrebbe appunto creare un grande grandissimo problema quindi se hai dei fondi su FTX allora devi assolutamente continuare a guardare questo video e capire perché può essere pericoloso CZ inizia appunto con l'avviso della liquidazione dei token FTT 584 milioni dicendolo in questo tweet poi fa un altro tweet nel quale fa riferimento all'ecosistema Luna e dice noi abbiamo imparato molto appunto da quello che è successo con Luna e quindi diciamo tra virgolette crea del food del panico perché ha paura che ci sia questo rischio sistemico sostanzialmente quindi prende questa decisione avvisa e tutti iniziano a vendere ovviamente FTX, FTT scusate e ovviamente le persone vanno in panico avendo paura dell'exchange iniziano a prelevare tantissimi fondi e questo potrebbe mettere in sé i problemi l'exchange come possiamo anche andare a vedere da quest'altro tweet da Luca on chain nel quale va a analizzare tutti gli address on chain e cosa succede analizza che Almeda Reserve sta spostando tantissimi fondi appunto sull'exchange FTX e quindi potrebbe appunto dampare questi token token che sono questi qua che vediamo in sovraimpressione potrebbe venderli e ovviamente causare appunto anche un crollo di questi token e considerando ovviamente ragazzi tutto quello che abbiamo visto fino adesso il rischio di crollo sistemico potrebbe esserci sia sul token FTT ovviamente anche perché quando si era del food c'è un aumento dell'open interest incredibile che adesso vi faccio vedere questa è la situazione sul grafico da parte di FTT che non è molto molto positiva guardate il dump che c'è stato questa condela è stata già riassorbita e guardate qui questo invece ragazzi è l'open interest sul token FTT USDT guardate qua su Binance l'open interest ha avuto un aumento incredibile ciò significa che la quantità di posizioni ovviamente del 668% adesso riassorbita circa 600% la quantità di nuove operazioni di nuovi contratti aperti sui futures sono aumentate esponenzialmente ovviamente in maggioranza con degli short e questo crea grande panico paura e pericolo personalmente ho deciso di spostare preventivamente i miei fondi da FTX e spostarli ovviamente su BitGet che è un altro exchange ragazzi che personalmente utilizzo lo sapete benissimo tra l'altro vi lascio il mio referral link se non avete un account potete utilizzarlo anche senza procedura di verifica dei documenti e prelevare fino a 20 bitcoin al giorno e depositarli personalmente ho spostato tutto su BitGet avete anche uno sconto delle feed del 15% per sempre sia sul mercato spot sia sui futures se utilizzate BitGet ovviamente il mio referral link in descrizione perché perché il rischio comunque c'è innanzitutto guardando l'account twitter di Luconchain possiamo notare che oltre ai fondi che Almeda sta spostando ragazzi sull'exchange vedete molti fondi vengono spostati sull'exchange perché c'è una quantità di soldi prelevati circa un miliardo in due giorni che sono tantissimi ritardi sui prelevi e quindi il rischio ovviamente si fa sempre più grande gli short che aumentano su FTT e poi anche perché possiamo vedere che alcune whale stanno iniziando a vendere anche loro i propri token FTT addirittura in perdita questa grande whale aveva circa 2 milioni di FTT acquistati a maggio 2021 le ha venduti per circa un milione attualmente quindi in perdita e ovviamente ragazzi vi consiglio di seguire questo account se volete seguire la vicenda ci sono tantissime cose che vanno ad analizzare di quello che dei fondi che stanno muovendo Almeda FTX e ovviamente anche dai vari fondi presi su Circle vedete da novembre hanno iniziato a prelevare tutti gli USDC su Circle e trasferirli su FTX quindi significa che un po' di problemi magari li stanno avendo e quindi il rischio magari di insolvenza potrebbe se dovessero continuare a prelevare fondi shortare FTT eccetera eccetera ragazzi i rischi di insolvenza aumentano sempre di più rischi attualmente sono ancora contenuti sembra per il momento ma in via preventiva siccome che dovete ricordarvi not your case not your coin ovviamente è meglio di tenere i fondi fuori da un exchange utilizzarli su un exchange solo per fare delle operazioni se magari fate trading ma altrimenti ragazzi se decidete di holdare delle criptovalute meglio tenerle sul ledger trovate il link nel profilo se ancora non avete uno acquistatelo che quello che utilizzo io lì i vostri fondi saranno molto più assicuro rispetto ad un exchange ovviamente ragazzi questa è una vera e propria guerra sembra tra CZ e Sam Bankman anche se CZ dice di non essere assolutamente in guerra e che l'ha fatto solo in via preventiva perché vuole appunto evitare diciamo di far perdere da virgolette soldi alle persone di appunto far creare altri ovviamente anche lui è un punto di investimento e far creare ovviamente altre liquidazioni e rischi sistemici da una parte può è costarci ovviamente da un'altra parte sembra una mossa in intelligente però c'è un grande però è vero i rischi è vero che ho rimosso i fondi dall'exchange anche perché eventualmente non succedesse niente si possono comunque tranquillamente rimettere c'è da considerare una cosa importante che questo balance sheet ovviamente è iniziato a circolare è un leak e è stato smentito ovviamente da Almeda Research e quindi potrebbe anche non essere vero potrebbe non essere effettivamente così indebitato e potrebbe appunto avere tanti tanti altri fondi e quindi non avere una grandissima parte del proprio portafoglio in token FTT e quindi un rischio così grande anche se il token dovesse dampare profondamente ovviamente questo appunto potrebbe essere smentito e quindi io in via preventiva ho preso questa decisione di togliere momentaneamente i fondi da FTT questo anche perché il balance appunto ha già iniziato a liquidare e liquiderà altre parti di token FTT quindi il prezzo del token FTT potrebbe dampare vi dico anche una piccola cosa io un piccolo short sul token FTT l'ho aperto ovviamente ragazzi questi non sono assolutamente consigli finanziari potrebbe rivelarti tutto annullato nel senso che se dovessero dimostrare che non è così quel balance sheet e quindi il token potrebbe non dampare e riprendersi e quindi potreste perdere i vostri soldi quindi prima di fare qualsiasi operazione fate le vostre considerazioni ricordate di utilizzare gli stop loss così come ho fatto io quindi io ho aperto un piccolo short ovviamente sempre con stop loss e considerando che può andare anche all'imberto l'operazione c'è comunque il rischio che il token inizia a perdere di prezzo se soprattutto il food dovesse continuare ad aumentare e spero di esservi stato utile se apprezzate questa tipologia di contenuti lasciate subito un like a questo video per farlo arrivare quante più persone possibili inviate a vostri amici se avete fondi appunto su FTT iscrivetevi al canale e seguitemi su tutti i social noi ci vediamo al prossimo video ciao